A Vigatelle è stato bellissimo lavorarci perché mi avevano detto che lui era una persona molto scorbutica e molto anche a volte sgarbata con i registi, creava dei produttori, insomma, che era una persona non facile. Ci siamo messi a parlare, mi sembrava una persona simpaticissima e buonissima e anche bravissima. Certo ha il suo carattere, una persona di un forte carattere, però basta rispettarlo, questo suo carattere. Poi dopo, anzi, è un grande collaboratore che vuole, lui è un vero attore, lui vuole l'aiuto degli altri, non è che vuole opprimere gli altri o la capacità degli altri, anche degli altri attori. No, lui è un vero attore, lui vuole arricchirsi. Quindi quando il regista o qualsiasi persona gli dice, suggerisce qualcosa, lui è contento se la cosa gli serve. Io ho trovato una persona buonissima, con cui abbiamo fatto benissimo, senza mai un bisticcio, un litigio, anzi, una grande felicità è stata veramente.